500 cuori rosso neri al seguito del Foggia con la speranza di vivere un'altra nottata magica. Solo nella serata di ieri polverizzati dai club organizzati 400 tagliandi. A Crotone il Foggia ci arriva col pieno di entusiasmo e con la consapevolezza di potersela giocare. In più con un prezioso anche se risicato vantaggio derivante dal gol di Peralta nella gara di andata. Sarà battaglia su questo non ci sono dubbi e questa volta ad essere un inferno sarà l'uscida. Il Foggia però falleva su un dato che può essere indicativo. Nelle ultime 22 gare i rossoneri sono sempre andati a segno e se il trend dovesse essere confermato sarebbe una variabile non di poco conto. Dall'altra parte c'è invece una squadra che sul proprio campo, Coppa Italia compresa, ha conquistato la bellezza di 14 vittorie, 6 pareggi ed una sola sconfitta, quella col Cerignola. Incerottato e con poche alternative, Delio Rossi, che sarà peraltro in tribuna per squalifica, dovrà fare a meno di Leo, appiedato per un turno dal giudice sportivo in seguito al giallo rimediato all'andata. Squadra partita alle 13 per la Calabria della gara. Non saranno nemmeno gli infortunati Auger e Garattoni. Andranno valutate le condizioni di Beretta e Ogunzeie, mentre l'unico recupero certo appare quello di Davide Peterman, pronto ad agire da metronomo nella mediana rossonera. Ballottaggio di noi a schenetti nel ruolo di mezza alla sinistra, per il resto pochi dubbi ed una sola certezza. Servirà la gara perfetta per lasciare indenni l'uscida, allungare il sogno e regalare al popolo rossonero un'altra notte di festa.